La Grecia è ancora una volta sull'orlo del fallimento. Come è possibile una nuova crisi dopo il prestito stanziato da FMI in Unione Europea? Professore André Sapir, economista presso la Libera Università di Bruxelles, perché la Grecia non riesce a riprendersi malgrado gli aiuti? Le disposizioni stabilite un anno fa per permettere alla Grecia di uscire effettivamente dalla crisi erano troppo difficili da sostenere. E le ultime notizie rivelano che il deficit greco resta nettamente superiore a quello che avevano previsto. Presumibilmente la Grecia non potrà ritornare sul mercato per riottenere liquidità nel 2012, come era stato previsto dal piano dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. L'Eurozona si è ancora occupata del caso greco, ma non c'è accordo. Lei dice che è la situazione più complicata del previsto. Come possono salvare la Grecia? Occorre prima di tutto che a livello europeo arrivino il più presto possibile ad un'intesa comune e dall'altra parte devono evitare gli interventi fatti a piccoli passi. Occorre ora che ci sia una soluzione credibile a medio termine. Bisogna interrompere le misure che coprono l'emergenza per giorni o al massimo le settimane a venire. Lei parla di piccoli passi. 110 miliardi di euro non sembrano briciole. Bisogna stanziare più soldi? No, non ho detto che bisogna iniettare più aiuti di quelli previsti, ma che occorre studiare come gestire questi soldi. Soprattutto perché i mercati non hanno fiducia nella Grecia, visto che le misure introdotte non garantiscono una soluzione di duratura. Ed è questo il vero problema. Ogni sei mesi o al massimo ogni anno occorre fare una nuova iniezione di aiuti. Occorre dimostrare che non si interviene solo per tamponare la crisi nei prossimi mesi. Anche perché la soluzione potrebbe essere necessaria anche per altri paesi, cosa che complica la questione. Sappiamo bene che non molto lontano dalla Grecia abbiamo Irlanda e Portogallo. Quali scenari catastrofici possiamo prevedere nel caso il salvataggio della Grecia non funzionasse, soprattutto per gli altri paesi della zona euro? Non voglio assolutamente prendere in considerazione uno scenario catastrofico, anche perché non siamo di fronte a un caso del genere. Dobbiamo adottare soluzioni difficili, ma che comunque esistono. Sono misure che devono passare dall'Unione a livello politico. Trichet ha parlato di questo una settimana fa, quando ha espresso l'idea che possa essere creato un Ministero delle Finanze europeo. Questa è una soluzione. L'altra soluzione, che lo è però solo a breve termine, è realizzare un intervento nel settore pubblico. Credo che siamo giunti alla questione chiave, senza spingerci fino al nodo dell'Unione politica europea. Non si sa che fine fanno i soldi pubblici stanziati per la Grecia. Questa è la stessa esigenza di molti esponenti del settore privato, di Germania, Olanda, Finlandia e altri paesi che detengono parte delle obbligazioni del tesoro greco. Grazie André Sapir per il vostro eclairage. Grazie André Sapir.